Siamo con Ilaria Galbusera, capitana della Nazionale Italiana di Pallavolo Sordi, che verrà insegnata di un'importante onoreficenza al Presidente della Repubblica nelle prossime settimane. Come ha preso la notizia di questa onoreficenza? È stata una grande sorpresa perché una ragazza a 27 anni non si affetterebbe mai di ricevere un riconoscimento simile, però è una cosa che mi rende molto orgogliosa e mi stimola a continuare su questa strada, anche perché sono progetti che amo fare e mi piace tanto fare e spero che questa onoreficenza possa aver dato la visibilità ad un mondo che è la sordità, che ci conosce veramente poco. E questo merito poi è anche per tutte le persone sordi che si trovano ogni giorno ad affrontare le battaglie quotidiane e spero che possa aver dato tanto rumore anche su una realtà di cui, come dicevo prima, c'è poca informazione. Allo stesso tempo vorrei dedicarlo a tutte le persone che ogni giorno fanno progetti per l'integrazione e inclusione di bambini e ragazzi sordi, perché al giorno d'oggi è molto importante e continuare a lavorare su questo. Quindi, come dico prima, è un merito che mi gratifica tantissimo e ci è stata una sorpresa molto grande.